Maggioranza di centrodestra abbattuta durante l'ultima seduta dell'anno del Consiglio Comunale di Sernia in videoconferenza sui debiti fuori bilancio per circa 11.000 euro derivanti dalla sconfitta del Comune in vari giudizi amministrativi e tributari. L'amministrazione d'Apollonio è stata sconfitta per la prima volta con 15 voti a 14. L'assenzione della forzista Mena Calenda e l'assenza di Tonino Antenucci, Giuseppina Melaragno e Fabia Onorato hanno fatto venire meno i voti al sindaco. Il risultato è la mancata regolarizzazione contabile ma più che altro un segnale politico di malessere dal punto di vista della tenuta degli equilibri interni al centrodestra in vista delle prossime elezioni. Rita Formichelli dal suo canto ha detto quando abbiamo approvato il bilancio consultivo avevo chiesto al consigliere delegato Giampiero Mancini e al sindaco se fossero a conoscenza di altri debiti fuori bilancio di cui dovessimo essere messi al corrente ma entrambi hanno eluso la domanda. Siamo di fronte al solito problema segnalato dai revisori dei conti fin dal 2017 ma qui non sono debiti fuori bilancio bensì spese legali. Non è possibile che un comune si costituisca in giudizio e non faccia una previsione in bilancio in caso di sconfitta. Mancano gli impegni di spesa si tratta di un escamotage per correggere il tiro delle inefficienze già segnalate più volte dai revisori di conti e dalla Corte dei Conti. Se avete le sentenze esecutivi continua Formichelli e ci chiedete di pagare a dicembre vuol dire che conoscevate dapprima queste situazioni parole cui ha replicato così il sindaco Giacomo D'Apollonio. C'è stato un piccolo incidente per riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio assolutamente dovuti rispetto devo dire che molti consiglieri non conoscono il 194 del Tuel, ci sono sentenze di condanna del comune per questioni sempre molto vecchie maturate durante questo periodo di consigliatura ma si riguardano fatti sempre antecedenti. Sono maturate delle spese legali, piccoli importi eccetera che secondo le procedure contabili e di legge bisogna riconoscere in consiglio perché ovviamente non avendo fatto un impegno di spesa precedente purtroppo si deve procedere con il riconoscimento come prescritto dalla legge.